stampa convocata dalla lista referendum e democrazia e da humans, io sono Virginia Fiume, co-presidente di humans, saluto chi ci sta seguendo sugli account social che distribuiscono questa conferenza stampa, Marco Cappato, humans e la lista. Iniziamo questa conferenza stampa che vedrà la partecipazione di Marco Cappato, l'avvocato Rocco Berardo e probabilmente anche Marco Perduca, responsabile legale della lista referendum e democrazia. Inizio io con un breve intervento di contesto su quello che ha portato alla convocazione di questa conferenza stampa e poi dopo di me interveranno appunto Marco Cappato e Rocco Berardo. La notizia di convocazione della conferenza stampa è che il governo si è costituito contro l'ammissione della lista referendum e democrazia a pochi giorni dall'udienza che è prevista per lunedì 19 settembre a seguito del ricorso di urgenza al giudice ordinario che avevamo depositato il 2 settembre e che era stato oggetto dell'ultima conferenza stampa organizzata. Nel dettaglio del parere del governo in questa situazione è quello in cui entreremo con Marco Cappato e Rocco Berardo ma in questa mia introduzione vorrei fare un breve riassunto di come siamo arrivati a questa a questa giornata per sottolineare ancora di più l'ironia amara di quanto si può leggere nella memoria depositata dal governo. L'iniziativa che poi ha portato alla raccolta firme digitali per la lista referendum e democrazia con Marco Cappato era iniziata in realtà il 25 luglio immediatamente dopo l'avvio delle procedure dei passaggi per le elezioni con una lettera al presidente del consiglio Mario Draghi e a tutto il governo e a tutti i parlamentari questa prima lettera in cui veniva immediatamente riconosciuto veniva richiesto il riconoscimento della firma digitale per la presentazione delle liste elettorali e in collegamento al lancio della piattaforma pubblica per la raccolta firme eh che era già stata c'era già stato un impegno del governo eh in questo senso la piattaforma sarebbe dovuta essere resa pubblica dal primo gennaio di quest'anno e invece ancora ad oggi eh la piattaforma non c'è ma il 25 luglio avevamo diciamo sollecitato l'urgenza di queste due eh iniziative ehm l'obiettivo appunto di questa di questa dell'avvio di queste lettere era superare da subito e con dei poteri a disposizione del del governo stesso le discriminazioni innanzitutto tra l'accesso eh alla raccolta firme per via digitale garantito per il referendum e invece non eh non ancora garantito per le liste elettorali eh e anche le discriminazioni legate ai meccanismi appunto di partecipazione alle elezioni di soggetti non rappresentati in parlamento a quella lettera aveva fatto seguito uno sciopero della fame di dieci giorni eh lanciato da me con altre 27 persone eh per sollecitare l'intervento urgente del del governo un intervento in quella fase estremamente possibile eh ed era stata inviata anche una seconda lettera al presidente del consiglio Draghi e al presidente della repubblica Sergio Mattarella eh in seguito ai silenzi prolungati delle delle istituzioni avevamo poi abbiamo poi avviato eh la fase di effettiva eh lancio delle candidature e quindi poi della preparazione delle liste per la lista referendum eh e democrazia con Marco Cappato e la fase di raccolta firme solo digitali con la stessa tecnologia usata per la campagna refrandarie eh eutanasia legale cannabis legale del duemila del duemila e ventuno con dei costi per la raccolta firme a carico di fatto dei cittadini e delle cittadine che andavano che sono andate a firmare eh a firmare le liste quindi di fatto eh chiedendo ai cittadini di sostenere i costi di quella che sarebbe dovuta essere la piattaforma eh pubblica il 20 agosto abbiamo fatto un walk around intorno a Palazzo Chigi alla vigilia della scadenza per il deposito delle liste per reiterare la la richiesta appunto di interventi eh di un intervento eh per il riconoscimento delle delle firme e il 22 agosto lo stesso Marco Cappato ha scritto anche lui una lettera resa pubblica ma inviata al presidente al presidente Draghi nel giorno della consegna eh delle firme immediatamente dopo questo sono stati fatti ricorsi presso il giudice elettorale per ottenere il riconoscimento delle eh delle firme raccolte eh il 31 agosto abbiamo interpellato il ministro la ministra Lamorgese eh ministra degli interni con un'altra con un'altra lettera e il 2 settembre appunto l'ultima conferenza stampa eh fatta abbiamo annunciato il deposito del ricorso eh d'urgenza presso il giudice ordinario col professor col professor Guzzetta. Oggi siamo qui di fatto a eh analizzare le la fase di questo ricorso d'urgenza in vista dell'udienza del di lunedì prossimo. Eh appunto adesso darò la parola a Marco per iniziare a a descrivere quello che sta che sta accadendo in queste ore. Eh io voglio solo ricordare che eh diciamo tutta questa iniziativa ha è stata incardinata con l'obiettivo di rimuovere tutti gli ostacoli alla partecipazione democratica eh che di fatto sono una violazione dei diritti costituzionali dei diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine italiane. Voglio ricordare credo che lo faranno sicuramente anche Marco e Rocco che il legislatore italiano già nel 2007 con la legge 165 articolo 3,7 dava la delega al governo per entro sei mesi consentire la sperimentazione per via digitale della sottoscrizione delle liste e quindi c'era tutto il tempo cioè sostanzialmente da cinque anni che ci sarebbe stato il tempo per rendere possibile questa modalità di eh partecipazione democratica nel caso della sottoscrizione delle liste. Eh ricordo anche che si è arrivato in Italia l'utilizzo della firma digitale per il referendum a partire dall'intervento delle Nazioni Unite sul caso Staderini De Lucia eh su quelli che sono gli ragionevoli ostacoli alla partecipazione in Italia da quel intervento delle Nazioni Unite è partito diciamo il processo che ha portato al primo risultato della firma digitale per gli strumenti di eh democrazia partecipativa e eh diciamo eh creando le condizioni rafforzando quanto appunto eh già dal duemiladiciassette sarebbe potuto accadere per le firme per le firme per le elezioni. Eh essendo Humans movimento paneuropeo di iniziativa popolare voglio anche eh portare una mh prospettiva dall'Unione Europea una notizia che secondo me ci aiuta anche a guardare la gravità della situazione attuale eh proprio ieri il Parlamento Europeo ha adottato una relazione in cui l'Ungheria eh viola viola viene dichiarato nella nella relazione viene notato come eh la mancanza di rispetto dei valori fondamentali dell'articolo due eh del trattato dell'Unione Europea eh in materia quindi di stato di diritto rispetto dei valori fondamentali in Ungheria hanno anche una componente legata alla ai processi elettorali alla partecipazione democratica ehm e quindi credo che guardare con attenzione al funzionamento eh delle procedure elettorali e all'accesso dei cittadini e delle cittadine a tutte le forme di partecipazione quindi anche soprattutto le elezioni sia eh un'allerta importante che noi abbiamo posto al governo con la nostra iniziativa e che continuiamo a fare ehm e a questo punto io lascerei la parola a Marco Cappato per entrare nel merito di quello che abbiamo eh visto rispetto alla alla posizione del governo eh in occasione dell'udienza e poi all'acoperazione. Grazie. Grazie Virginia. No in realtà non resta molto da aggiungere per cui semmai posso ehm sottolineare alcuni punti delle cose già dette da Virginia. Allora intanto ehm che cosa è successo noi abbiamo il diciannove settembre un giudizio davanti al tribunale di Milano per eh il nostro ricorso contro l'esclusione della lista referendum e democrazia concappato dalle prossime elezioni politiche in particolare per quanto riguarda eh la circoscrizione diciamo Lombardia al Senato eh ovviamente non siamo noi avere deciso eh della la data dell'udienza avremmo preferito che il tema fosse trattato direttamente ehm quando abbiamo subito contestato la nostra esclusione al momento del deposito delle firme ma ancora di più e ancora meglio avremmo voluto che il governo ci ascoltasse quando il 25 luglio abbiamo chiesto al governo un intervento per riconoscere la validità della firma digitale. Oggi con la posizione espressa dall'Avvocatura dello Stato il governo fa sostanzialmente eh due cose. Primo si costituisce contro il riconoscimento della firma digitale nel processo elettorale e in secondo luogo eh in qualche modo minaccia eh le sulle conseguenze che eh se il giudice eh ci desse ragione ciò potrebbe avere sulla data, sul processo, sullo svolgimento del procedimento elettorale. eh allora e questo ehm lo leggiamo perché perché eh credo che sia ehm importante prendere letteralmente le parole usate dall'Avvocatura dello Stato. Le lezioni sono un complesso procedimento con rigorose scansioni temporali. In caso di accoglimento del ricorso sarebbero completamente stravolte al punto da imporre di fissare una nuova data per la convocazione dei comizi elettorali. Scrive il governo di fatto il provvedimento cautelare auspicato cioè quello che si decide lunedì dai ricorrenti imporrebbe di differire lo svolgimento delle elezioni. Allora la memoria del governo prende le mosse quindi da un vero e proprio ricatto istituzionale fondato però su che cosa? Su ritardi e omissioni del governo stesso che interviene nel merito per contestare la validità della firma digitale ma fa pendere sulla testa del giudice del tribunale di Milano la responsabilità dello spostamento delle elezioni che però se questo dovesse accadere sarebbe solo e soltanto conseguenza dell'inerzia del governo stesso perché appunto noi il 25 luglio avevamo fatto questa richiesta e quindi se il governo fosse intervenuto prima non ci sarebbe stato alcun rischio di spostamento delle elezioni prima quando? Prima del 25 luglio non solo lo ha già ricordato Virginia nella legge 165 del 2017 era previsto cito testualmente dalla memoria del governo entro sei mesi quindi entro sei mesi dal novembre 2017 con decreto del ministero e dell'interno di concerto con il ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione del ministero dell'economia finanza e del ministero affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature delle liste in occasione di consultazioni elettorali anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata in altre parole lo stesso governo che sta dicendo al giudice lunedì tu non puoi accogliere questo ricorso perché se lo accogli dobbiamo spostare la data delle elezioni è un governo che è l'ultimo di una serie di governi che dal 2017 aveva ricevuto il mandato dal parlamento per fare esattamente quello che gli chiediamo di fare da messi cioè riconoscere la firma digitale devo dire che poi la memoria del governo aggiunge altre cose alcune provocatorie tipo gli altri candidati dovrebbero essere chiamati in giudizio perché contro interessati cioè come se ci fossero delle controparti quindi ascoltare gli altri candidati e le liste chiamarli in giudizio per questo giudizio di lunedì non solo ma c'è anche una difesa di fatto del meccanismo esistente leggo testualmente la memoria del governo la normativa vigente che prevede la sottoscrizione autografa delle liste delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e che gli uffici elettorali hanno correttamente applicato eccetera eccetera non preclude né rende particolarmente difficoltosa la presentazione delle liste quindi il governo dice ma la presentazione delle liste non era così difficoltosa come dimostra il fatto che le modalità di sottoscrizione permangono sostanzialmente invariate da decenni e certo decenni fa possiamo immaginare che non c'era la firma digitale e non hanno mai impedito ad alcuna formazione politica di qualche consistenza di presentare le proprie liste tanto è vero che anche in occasione della presente consultazione sono state regolarmente presentate ed ammesse centinaia di liste in tutta italia quindi le formazioni di una qualche consistenza ce la fanno faccio sommessamente notare noi abbiamo raccolto l'anno scorso un milione e 240 mila film se per questo sui referendum ma la situazione qui era un po era un po diversa non entro poi nel merito di come siano state raccolte le firme sulle altre liste l'ultimo tentativo di ribaltare sulla nostra vista la responsabilità che è dello stato e su quest'altro passaggio che ci che vi cito gli uffici elettorali avendo ritenuto inammissibile la modalità di presentazione delle liste non ha svolto alcuna verifica circa l'effettiva esistenza e regolarità delle sottoscrizioni presentate digitalmente cioè in parole povere siccome lo stato si è rifiutato di verificare se c'erano le firme e quelle firme ci sono basta aprire la chiavetta e il file siccome siccome lo stato si è rifiutato di verificare se c'erano le firme allora lo stato può fare come se le firme non ci fossero cioè oggi il governo ci dice come facciamo a sapere se ci sono veramente le firme no qui stiamo parlando non della validità delle firme che l'oggetto del ricorso ma l'esistenza stessa c'è il governo nella memoria dice l'ufficio elettorale ha rifiutato di aprire la pennetta digitale per verificare se c'erano le firme quindi come facciamo a sapere se quelle firme c'erano no ovviamente bisogna aprire la pennetta e guardare se ci sono non è che se lo stato non le aperte si può imputare a noi di non dimostrare che ci sono queste firme anche perché le firme ci sono questo è il punto le firme per presentare la lista referendum e democrazia le firme valide ci sono il governo rifiuta di accettare la realizzata della firma digitale e pone sulle spalle del giudice un ricatto oggettivo sullo spostamento della data delle elezioni che sarebbe totalmente responsabilità del governo stesso cioè del non avere il governo stesso fatto nulla come era in suo potere già da cinque anni quindi questo governo e i precedenti governi e di non avere in alcun modo risposto alla sollecitazione che dal 25 luglio anche con lo sciopero della fame di virginia fiume e di altri attivisti di humans e della lista referendum e democrazia abbiamo realizzato qui non possiamo che non possiamo che deprecare non so se si sente ancora perché vedo che ho è caduto cappato sul più bello un attimo che facciamo una verifica nel frattempo virginia anche tu sei muta allora sì scusate dopo c'è una verifica tecnica per che abbiamo perso cappato io direi che mentre lui cerca di riconnettersi forse nel frattempo rocco berardo per entrare ancora più nel dettaglio giuridico della situazione grazie virginia tanto buongiorno a tutti fermo restando che è in corso un giudizio nel quale siamo rappresentati dal professor giovanni guzzetta e per questo diciamo non entreremo nel dettaglio del ricorso e delle argomentazioni offerte ecco non so se marco voleva sì allora facciamo facciamo concludere cappato scusa rocco e non è mio sì scusate termino velocemente voi mi sentite questo sì ok per scusare perché una telefona sotto e non riesco allora finisco per dire che noi ovviamente non possiamo che deprecare la decisione presa dal governo attraverso l'avvocatura dello stato di opporsi al riconoscimento della firma digitale in materia elettorale e di sostenere l'esclusione della nostra lista la possibilità di rinvio delle elezioni è responsabilità diretta dei ritardi del governo stesso che espone in questo modo l'italia a condanne davanti alle giurisdizioni internazionali come già accaduto lo ha ricordato virginia fiume da parte della commissione diritti umani dell'onu sul ricorso staderini de lucia quindi noi confermiamo la nostra richiesta davanti al tribunale di milano depositiamo delle contromemorie a questa documento presentato dal governo e su questo lascio spiegare meglio all'avvocato rocco berardo gli elementi anche giuridici di contestazione che noi facciamo di questa lettura da parte del governo grazie marco grazie virginia io stavo introducendo il mio intervento ringraziando il professor guzzetta che sta seguendo per noi il giudizio presso il tribunale di milano non entreremo ovviamente nel dettaglio del ricorso e delle argomentazioni che sono state offerte al tribunale contraddittoria sforzata col governo però eh qui ci limitiamo a definire il quadro delle ragioni giuridiche politiche eh di diritto che eh si sono declinate in questa azione eh giurisdizionale intanto come ricordava Virginia è stato fatto un ricorso ex articolo settecento eh cioè per ottenere un provvedimento d'urgenza questo lo sottolineo perché è la prima volta che eh questo viene fatto per l'esclusione di una lista e infatti eh in applicazione di una sentenza del duemilaventuno della Corte Costituzionale eh si adempie per la prima volta a quello che la Corte stessa ha chiarito come unica strada per accedere alla giustizia nel caso di esclusione delle liste ovvero quella del giudice ordinario. Allora quali sono le nostre argomentazioni che abbiamo offerto? Beh sono le argomentazioni che eh vogliono definire perfettamente valide eh le sottoscrizioni che sono state portate presso tutte le porti di appello e sono assolutamente valide queste sottoscrizioni per varie ragioni eh le più importanti delle quali eh stanno dentro un regolamento europeo e dentro una eh normativa interna. Quella del regolamento europeo è quello del regolamento EIDAS e eh ci siamo soffermati molto su questo in altri nostri incontri ovvero l'articolo venticinque comma tre del menzionato regolamento eh che sull'identità digitale prescrive in modo nitido una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro e riconosciuto quale firma elettronica qualificata in tutti i Stati membri. Questo che cosa vuol dire? Che il riconoscimento di eh l'obbligo di riconoscimento di queste firme elettroniche qualificate che di fatto è stato introdotto dal regolamento europeo da una portata eh generale e non consentire questo esercizio eh di questo diritto evidentemente si scontra con i diritti costituzionali riconosciuti dai cittadini dell'Unione europea e anche questo porterebbe eh con evidenza al fatto eh di far rischiare allo Stato italiano un'altra procedura di infrazione. Questo per quanto riguarda la normativa europea. Poi abbiamo anche la normativa italiana del cosiddetto CAD ovvero il codice dell'amministrazione digitale che non esclude affatto il poter accedere alle elezioni attraverso una sottoscrizione elettronica qualificata una firma elettronica qualificata perché qui ci troviamo nella eh procedura preparatoria delle elezioni tant'è che il codice dell'amministrazione digitale dice che sarebbero precluse le proprie norme all'operatività esclusivamente nelle consultazioni elettorali. Ora per definizione le consultazioni elettorali sono associabili eh nell'ordinamento eh come significato solo al momento elettorale delle urni. Quindi la fase preparatoria eh non viene preclusa dal codice dell'amministrazione digitale. Ora rispetto a queste ragioni che sono fondamento del fatto di aver portato le sottoscrizioni presso le porti d'appello e aver presentato così le nostre liste ehm il governo attraverso eh la eh avvocatura dello Stato ha sostanzialmente ribadito che la Regge non riconosce questa procedura nelle sotto della sottoscrizione digitale nell'ambito elettorale però ha aggiunto una cosa più pesante che era quella che eh poc'anzi ricordava Marco Cappato. Dice sostanzialmente il l'avvocatura dello Stato e quindi eh attraverso eh di lei il governo. Badate che se il giudice dovesse accogliere la domanda dei ricorrenti metterebbe a rischio le elezioni e sono tanti e tali le procedure da adottare che non si potrebbe far altro che rinviarle. Questo cosa comporterebbe? Questa decisione dice l'avvocatura dello Stato sconfinerebbe eh pregiudicando addirittura i poteri e le attribuzioni del capo dello Stato e del potere dell'esecutivo nel convocare eh le elezioni perché gli stessi dovrebbero eh decadrebbe sostanzialmente i decreti l'indizione delle elezioni eh precedentemente emanati e sarebbe necessario fissare eh con nuovi decreti altre elezioni. Questo eh dice eh l'avvocatura dello Stato si sconfinerebbe. Ma noi non chiediamo questo ed è qui bene ribadirlo perché il nostro ricorso e qui lo sottolineo è finalizzato a ottenere esclusivamente l'ammissione delle liste presentate nella circoscrizione Senato della Lombardia. Nella nostra domanda c'è anche contestualmente anche la la richiesta di sollevare questione di costituzionalità e l'eventuale per la palese irragionevolezza eh del di questo presunto divieto di presentare le firme attraverso la firma elettronica qualificata. Dunque non c'è nessun'altra domanda nella nostra eh nel nostro ricorso eh ovviamente eh non c'è nessun'altra domanda se non quella che vi ho poc'anzi detto e ovviamente non c'è quella di richiedere al capo dello Stato o al governo attraverso la decisione del Tribunale di fare o non fare alcune eh cose che ehm sarebbero necessarie per l'indizione, per la partecipazione della lista referendum e democrazia concappato alle prossime elezioni. Dunque concludo eh queste sono le nostre ragioni eh che che di diritto e politiche più generali ma eh quello che è bene eh ancora una volta di più sottolineare che responsabilità del governo e non certo dei ricorrenti se è rimasta in evasa una legge dello Stato eh l'articolo 3,7 della legge 165 del 2017 che dava tempo sei mesi ma era un tempo di fatto ordinatorio lo potevano fare anche altri governi eh in cui eh appunto il legislatore mh dava mandato al governo eh di definire le modalità per consentire la raccolta digitale delle sottoscrizioni necessarie per le candidature. In più eh in realtà questa sperimentazione già si è eh ottenuta attraverso una legge dello Stato riguardante le firme dei referendum quindi eh diciamo che si configura nell'ordinamento la piena validità delle firme eh così come da noi eh presentate che ci tengo a dirlo hanno una validità paradossalmente di molto superiore alle sottoscrizioni autografe eh laddove poi l'accertamento delle corti di appello è meramente formale guardano se ci sono sottoscrizioni eh autografe disinteressandosi se sono effettivamente dell'autore che fa la firma sappiamo che eh solo dopo eventuali eh denunce che passano attraverso contrasto all'interno delle liste o di fuori delle liste ma insomma per altre vie poi si può eh verificare veramente se sono firme raccolte secondo le modalità di legge ecco paradossalmente delle leggi sicure e valide vengono in questo momento non considerate eh utili per poter presentare le liste da parte dei cittadini. Allora ringrazio l'avvocato Rocco Berardo intanto dico a tutti che i materiali già disponibili giuridici sono sul sito lista referendumedemocrazia.it e mano a mano nel proseguire delle prossime delle prossime ore continueremo ad aggiornare il materiale che che è divulgabile e intanto direi che eh apriamo gli interventi le domande dei giornalisti sia i giornalisti sia online che anche eventualmente in sala al Calendarden eh a Milano non so se dalla sala c'è qualche intervento o qualche domanda? Sì 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 un attimo di pazienza che si stanno organizzando in sala. Sì un attimo solo. Allora intanto buongiorno a tutti grazie scusate prima perché ho fatto qualche domanda senza senza rendermi conto che eh stavo disturbando credo che ci fosse le domande prima e volevo chiedere come un aspetto proprio a Marco Cappato. Eh questo ricorso viene presentato in questa fase se ho ben capito solo in Lombardia in relazione alla caniatura eh del Senato. Io volevo sapere se voi avete presentato il corso anagro in Italia e quali sono le regioni dove voi avete raggiunto e superato i vintimila eh firme digitali necessarie secondo la vostra posizione per la presentazione della vista. Grazie. Allora noi dall'inizio abbiamo eh posto un punto di principio cioè volevamo che il governo sfruttasse questa occasione per ehm chiarire d'ora in poi la validità della firma digitale per la presentazione alle elezioni. Quindi eh una volta che la lista è stata rigettata abbiamo scelto eh la regione Lombardia come regione per presentare il ricorso d'urgenza. Presenteremo ricorso non di urgenza in comunque in tutte le altre regioni dove è stata completata la raccolta delle firme e ovviamente questo ricorso sarà eh discusso dopo il termine delle eh elezioni a meno che non venga spostato il termine. Queste altre regioni sono vado a memoria ma non so se c'è qualcuno che ha eh l'elenco preciso sicuramente Emilia Romagna 1 e 2. C'è Lazio 1 e 2, Lombardina 1, 2 e 3, Piemonte 1 e 2, Toscana e Veneto 1 e 2. Ok poi ve lo diamo anche per iscrivere. Toscana, Veneto, c'è qualcun altro che non ho perso. L'estero sia il senato che il collegio all'estero. Ok. Ok. C'è altre domande da qui. È complessa questa articolazione. Va bene qui non ci sono altre domande. Non so se dai collegati. Collegati online o domande insomma significative dai social eventualmente. Ripeto a chi ci chiede sui materiali, materiali giuridici e non sono tutti a disposizione mano a mano sul sito lista referendum e democrazia punto it. C'è una domanda. Guarda che stacco anche l'auricolare. Ah ok. No 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 va bene. No allora nessuna domanda. Ok. Ne leggo una che ci è arrivata da chi sta seguendo perché comunque aiuta a chiarire alcuni passaggi. Carlo Del Nero chiede il ricorso riguarda la Lombardia ma come potrebbero accettarlo continuando a ritenere non valide le firme in altri collegi? Cioè la coesistenza tra il ricorso e il fatto che non siano state ritenute valide le firme? Secondo me su questo poi ovviamente stiamo come ho detto all'inizio nel pieno della sperimentazione perché è la prima volta che un giudice ordinario interviene nel procedimento elettorale preparatorio per la riammissione di una lista. Ora se si dovessero riaprire i termini è ovvio che possiamo chiedere diciamo l'ammissione a quel punto anche per le altre liste per le stesse ragioni che sono state pronunciate dal tribunale. Vedremo. Ovviamente siamo in una fase di sperimentazione e lo scopriremo cammini facendo. Se non ci sono altre domande non so se Marco Cappato vuole fare un conto conclusivo se no ringraziamo tutte le persone giornalistiche e giornaliste che hanno seguito sia online che in sala a Milano e lunedì appunto c'è c'è l'udienza e ci si aggiornerà mano a mano. Grazie. Grazie.